Manca poco più di un mese al ritorno sui banchi di scuola per migliaia di studenti, eppure i nodi da sciogliere sono ancora molti. Il più importante, quello dei vaccini. Sono ancora 220.000 i docenti non vaccinati. L'invito a prenotare il vaccino arriva dal sottosegretario alla salute, Pierpaolo Sileri. La scuola comunque con le mascherine, questo ci sembra abbastanza sicuro? Primo punto, scuola, diciamo, dobbiamo tendere a una scuola con didattica frontale. Questa è la nostra meta. Per raggiungere questo, ovviamente, dovranno essere fatti dei protocolli di sicurezza. Sappiamo che ciò che ci difende dal virus è la vaccinazione, che chiaramente non è obbligatoria. E come ho già detto, a mio avviso, dobbiamo tendere a convincere i 220.000 docenti che non si sono voluti vaccinare, per loro stessi in primis. Ad Arezzo i ragazzi vaccinati nella fascia 12-19 sono 4.457. Abbiamo un vaccino disponibile sopra i 12 anni, due vaccini disponibili, a dire il vero, perché adesso abbiamo anche Moderna, però il protocollo principale prevede distanza o mascherina. Quindi, diciamo, questi saranno i presidi fondamentali. Vediamo come va la campagna di vaccinazione nella popolazione generale, perché molto dipenderà da quello che è anche fuori dalla scuola, dove prevalentemente avvenivano i contagi. Cioè, trasporto pubblico, assembramenti, non so, davanti alla scuola o tutte le attività extrascolastiche. Se la popolazione è fuori dalla scuola e protetta per l'80%, capite che, diciamo, anche i nostri bambini sono protetti. Cioè, quello che dobbiamo evitare è di vedere bambine di 11 anni che muoiono perché hanno una malattia rara, non possono vaccinarsi perché sotto i 12 anni non c'è il vaccino, quindi noi proteggiamo noi stessi e proteggiamo gli altri. E poi c'è la questione sanificatori dell'aria. Sono 678 quelli che la provincia di Arezzo aveva previsto di installare nelle scuole superiori del territorio con un investimento di circa 254 mila euro, cifra reperita all'interno del fondo Covid. Adesso arriva una circolare della ASL che ne sconsiglia l'uso. Ad entrare nella questione è il provveditore agli studi di Arezzo, Roberto Curtolo, prima, ferma dalle colonne del Corriere di Arezzo, era stata diramata una circolare dell'Istituto Superiore di Sanità, poi una circolare della ASL. Era stata adottata una soluzione tecnologica da affiancare ai protocolli sanitari, ma è stata cassata. Probabilmente tutto legittimo, afferma ancora Curtolo, ma se intervennevamo prima che gli istituti se ne dotassero risparmiavamo denaro pubblico.